Carissimi, vi invito a far sognare i vostri bambini, i nipotini e anche voi adulti, regalando e regalandovi il bellissimo libro di fiabe, La principessa luce e l'ognomo felicino, tradotto anche in inglese e tutto illustrato, dal sottotitolo La fiaba come speranza. In un momento così difficile dobbiamo, abbiamo più bisogno e dobbiamo non arrenderci e mai perdere la speranza, soprattutto noi adulti, insieme possiamo diventare di nuovo bambini con i nostri bambini. Obiettivo del libro di fiabe è di riuscire a trasmettere anche a più piccoli il concetto di malattia rara e soprattutto quello di solidarietà. Le storie della principessa luce e l'ognomo felicino raccontano come all'improvviso l'arrivo della malattia, rara, sconosciuta e misteriosa, anche se per opera di strega e di mago riesce a sconvolgere, travolgere e cambiare la vita di relazione. Niente più come prima, ma non bisogna mai scoraggiarsi e con l'aiuto degli altri e soprattutto della solidarietà le cose possono migliorare, anzi cambiare se non sconfiggere la malattia. Grazie